E' un soldato coraggioso. E' anche un soldato impaurito. Il signor Hemingway si raccomanda di farne un pacchetto regalo. A te raccomando discrezione. Come sempre, signora. Si è dato da fare anche stanotte l'americano. Edizione straordinaria. Hemingway e la cortessa Venezia. Edizione straordinaria. Brindisi al maestro Hemingway e alle sue parole che come fiumi in piena riempiono le nostre misere vite. Che si vinca o che si perda, la posta in gioco è sempre il cuore. Ho il calzino di qualcuno che non sa ancora parlare. che forse non conoscerò mai. Mi raccomando, no! Ciao! Grazie a tutti